Era questo ragazzo che veniva da Firenze, ebbe l'occasione di lavorare con Visconti. Si sentiva Visconti dentro di lui e in tutto il suo entourage. Era Giove, avvicinandosi a Lucchino nel senso di entrare nell'Olimpo. Io mi ricordo sempre le frasi di Lucchino, scenografo sì, regista no. Let's put the light back on the stage. Sono film che mi hanno sempre colpito per il tocco delicato ma profondo. Aveva questa capacità di fare molte cose insieme bene. Franco era molto fisico sul set, lui stesso illustrava la scena da fare. Lui non era musicista, Franco non era musicista, ma era più musicista di tantissimi altri. Lo sforzo di Zeffirelli era di essere popolare. We want to talk about real situations and real people today. Gli è stato spesso rimproverato come se fosse semplicemente il desiderio di avere successo. Domanda a tutti chi è che scrive un libro se non spera di pubblicarlo o fare un film che sia un fallimento. In Italia non era così riconosciuto come se fosse abbandonato. Perché neanche si sapeva bene in Italia che tipo di attività e riconoscimento aveva all'estero. Lui ha scelto una religione piuttosto che un'altra, che in Italia è imperdonabile per chi vuole fare cultura. Aveva un temperamento incredibile. Lui si poteva in un argomento molto veloce. Se qualche cosa non gli piaceva... L'acqua si poteva. Mi hanno costretto a queste ostilità, abbracciare il fucilio militare e sparare. E gli mi spara a me, o ammazzo a te o tu ammazzi me. Era un amico, proprio un amico. Non amava essere preso per i frontali. E quindi reagiva, non dico violentemente, non ti vedeva più. La moderazione non era una sua virtù, ecco.